Pisa Città Digitale è il progetto per implementare i servizi innovativi a favore della cittadinanza. Un accordo definisce i prossimi passaggi, lo hanno siglato il Comune di Pisa e l'Università. L'agenda digitale ci impone di avviare questo percorso di digitalizzazione. Si chiama Pisa Città Digitale, l'accordo siglato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, e dal rettore dell'Ateneo Cittadino, Riccardo Zucchi, per i prossimi cinque anni. L'amministrazione comunale e l'Università di Pisa lavoreranno insieme per supportare il Comune nella digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali e nella creazione di servizi e sistemi intelligenti per la comunità cittadina. L'accordo si dovrebbe tradurre non solo attraverso l'avvio di percorsi di formazione e di sensibilizzazione, ma anche proprio individuando delle soluzioni innovative che devono favorire l'accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini. Quindi sperimentare proprio dei nuovi servizi in tutta una serie di ambiti di cui appunto il Comune è sovrano, quindi diciamo la viabilità, la mobilità, il turismo, i lavori pubblici, l'ecosostenibilità, la gestione dei rifiuti. Quindi vedremo poi mano a mano, costituendo dei gruppi di lavoro, com'è possibile realizzare questi obiettivi. Il progetto prevede di avviare un rapporto di collaborazione sulle tematiche attinenti all'innovazione digitale in ambito cittadino, collaborazione che potrà realizzarsi attraverso studi e consulenze su tematiche specifiche, partecipazione congiunta a progetti e programmi di ricerca, iniziative di formazione rivolte al personale del Comune. Questo è un accordo quadro, quindi rimanda a specifici accordi attuativi, si concretizzeranno a seconda dei singoli campi di interesse. Uno degli aspetti che qualcuno potrà aver notato è che nella cartellonistica sono comparsi già dei codici QR che servono voi per gli utenti per avere una migliore e più immediata visualizzazione di iniziative, voi servono anche dal punto di vista dei nostri database e della nostra attività di ricerca, perché acquisire informazioni sui flussi, sul modo con cui gli utenti si rapportano alla trasmissione di informazioni è un tema generale di nostro interesse.